Zona gialla o zona arancione poco importa. È in arrivo infatti una nuova ordinanza regionale anti-assembramento che riguarderà le Marche fino al 3 dicembre, salvo nuovi provvedimenti governativi. Un'ordinanza soft anticipato il governatore Francesco Acquaroli, ma che comunque pone nuove regole più stringenti per frenare il contagio da Covid-19. Cominciamo dalla scuola dove, salvo contro ordini, saranno sospese le lezioni di educazione fisica al chiusa, le lezioni di canto e di strumenti a fiato. Novità anche sul commercio, dove si prevede che l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari diventi consentito ad una sola persona per nucleo familiare, eccezione fatta per chi accompagna persone non autosufficienti o minori di 14 anni. Regole o raccomandazioni, come quella di grandi e medie strutture di riservare i cittadini over 65, l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due ore di apertura. Restano attivi 24 ore i distributori automatici, ma con attenzione a distanziamento e sanificazione settimanale. Regole che saranno poi affidate al puro buonsenso civico, come la raccomandazione che si legge nell'ordinanza di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, né tantomeno organizzare cene o feste private.